A parte che non c'è nessun bavaglio e non credo che ci sarà, mi pare che dopo un anno di interventi legislativi direi che il primo intervento sia questo, è un fatto assolutamente, una affermazione assolutamente non fondata. Il governo non teme un lupi due, visto che Alfano ha spinto sulle intercettazioni? Ma guardi che qualunque legge dovrà essere affrontata e discussa su questo tema non inciderà prima di anni sulla gestione delle intercettazioni, comunque molti mesi, quindi pensare che con un intervento si possa in qualche modo alterare l'evoluzione di indagini in corso mi sembra non solo fantasioso ma anche infantilista.